Una strana telefonata a quella ricevuta dall'acquistura di Pisa la sera di venerdì scorso, 27 novembre, che ha scosso l'operatore del 113 in servizio. Una famiglia lamentava di non avere il cibo per il fine settimana e di non poterne acquistare fino a lunedì, quando avrebbe ricevuto in accredito il reddito di cittadinanza. Pronto, polizia? Non sappiamo cosa fare, non abbiamo niente da mangiare. Così il cuore grande dei poliziotti è andato incontro a quei cittadini alle prese con gli effetti della crisi. Una volante ha recapitato alla famiglia bisognosa due pizze, oltre ad una piccola somma di denaro frutto di una colletta da parte del personale della polizia, così da regalare un fine settimana più sereno. Ma la generosità degli agenti non finisce qui. Il personale appartenente agli uffici di prevenzione generale di Igos hanno incontrato Alessandra Orlanza e Nico Pasculli, rappresentanti dell'associazione Sguardo di Vicinato, per donare una spesa solidale da destinare alle famiglie più bisognose del territorio. E voi cosa ne pensate, lettori di dissapore? Cosa avreste fatto al posto dell'operatore che ha ricevuto la telefonata? Fatecelo sapere nei commenti e se avete trovato interessante questa notizia lasciate un mi piace. E soprattutto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche, per non perdervi nessuna novità firmata di sapore.